Ciao a tutti, come state? Spero tutto bene, chi non muore si rivede, scusate ma sono stati giorni veramente pesantissimi la Sophie, la gemellina, ha avuto la sesta malattia con febbre altissima e va bene, quello è passato Mattia adesso ha la laringite, ha avuto un'altra ricaduta, ieri siamo andati al pronto soccorso insomma, sono giorni abbastanza frenetici e intensi comunque va bene, dai, lasciamo perdere, parliamo di cose piacevoli sono stata da Calzedonia e non so se lo sapete ma da Calzedonia se acquistate 5 prodotti da bambina li pagate tutti i 5 e 12 euro, quindi io ne ho approfittato e ho comprato un po' di cose state attente su Vinted perché ormai questa cosa si sa e tantissima gente compra in offerta c'erano due mamme che stavano comprando il mondo e le ho sentite parlare che poi mettevano in vendita al prezzo triplo su Vinted, quindi prima di comprare qualcosa su Vinted andate a controllare i prezzi ok? perché se voi andate da Calzedonia 5 paio di pantaloni li pagate 12 euro se andate su Vinted, un paio di pantaloni da bambina, li pagate ben 15 euro quindi mi raccomando fate ballare l'occhio e attenzione non fatevi infinocchiare insomma, comunque vi faccio vedere quello che ho comprato allora, ho comprato questi bellissimi pantaloni per la Susanna, per la mia bimba più grande di 8 anni lei voleva questi qui assolutamente, quindi questi qui poi gli ho preso questo paio qui finto jet jeans con dietro le tasche di questo azzurrino perfetto per la primavera calzedonia kids, ok? tutto calzedonia kids perché appunto 5 cose, tutto 12 euro ho voluto io prendere questi pantaloni un po' pesantucci a costine in vellutino solo questi venivano 15 euro cioè tenete presente 15 euro questi venivano 12 euro questi venivano 15 euro ho preso questi qui viola serenissimi questi venivano 12 euro e questi serenissimi lucidi per pattinaggio con tutti i brillantini mattia con la laringite questi qui non c'è il pezzo sì c'è il prezzo no scherzavo, non c'è il prezzo tutto questo po' di roba ha 12 euro subito in cassa non vi dovete spaventare perché il prezzo passerà pieno poi alla fine ci sarà lo sconto io vi creepazo siccome grazie a tutti però che c'è il prezzo resso